E' arrivato intorno alle 12 il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, nella città di cui è cittadino onorario. La visita di oggi a Vittoria per il governatore siciliano è la prima visita ufficiale che fa in un comune dell'isola. Ad accoglierlo il sindaco Giuseppe Nicosia, ma anche i primi cittadini dei comuni vicini, a Cate, Comiso, Santa Croce e Camerina, nonché deputati regionali del versante Ipparino, Anello Di Pasquale, Pippo Di Giacomo, Giorgio Assenza e le autorità militari, nonché il prefetto di Ragusa. Crocetta arriva a Vittoria in un momento molto caldo per la politica a livello nazionale, le prese con la campagna elettorale e la formazione del nuovo governo e le sfide del suo movimento e il megafono al Senato, mentre a livello regionale con la rivoluzione di cui si è fatto portavoce. Tutti sono soddisfatti di questi primi mesi di governo, lei si sente soddisfatto? Mi piacerebbe fare ancora di più, perché non bisogna mai essere soddisfatti. Questo te lo devono dire gli altri. Ognuno di noi deve cercare di dare sempre il massimo di se stesso, perché sappiamo che i problemi che abbiamo trovato sono terribili, abbiamo trovato una Sicilia in cinocchio. Solo che questa Sicilia sta risorgendo, perché pensare che già le agenzie di reti che non ci declassificano o che ormai non veniamo più considerati a rischio di default, a rischio di fallimento, per noi è una grande soddisfazione. Sta cambiando anche l'immagine internazionale della Sicilia, si sta avviando la programmazione europea, il patto dei sintesi per le energie rinnovabili, siamo intervenuti fortemente sul MUOS, sollevando la dignità di quest'isola e ponendo come esigenza prioritaria quello del diritto alla salute dei cittadini e sfidando anche poteri fortissimi anche a livello internazionale. Stiamo cercando di rappresentare i siciliani, e li stiamo rappresentando, quelli veri che non ne potevano più di un sistema disfacelo che aveva distrutto l'isola. Per il sindaco Giuseppe Nicosia la presenza di Crocetto a Vittoria è un significato importante. È il presidente nel quale abbiamo creduto e che sta facendo veramente una grande rivoluzione, che sta riabilitando i siciliani e la Sicilia rispetto ai tremendi governi Cuffaro e Lombardo. Penso che da questo punto di vista è un onore per la città di Vittoria ed è anche un impegno che noi affidiamo al presidente di aiutare queste città, non solo Vittoria, ma tutte le città che sono state trascurate dai governi regionali e di portare avanti iniziative di sviluppo, oltre che di legalità, che veramente possono aiutarci a riprendere un cammino di effervescenza economica, di rapporti istituzionali corretti, di una regione che sentiamo vicina e non nemica, come è stata nel recente passato.